La tavola periodica dell'abbondanza è una rappresentazione grafica dei 90 elementi della tavola periodica presenti in natura. Essa è stata progettata e realizzata nel 2019 dal chimico italiano Nicola Armaroli, direttore del CNR di Bologna, ed è stata inoltre proposta come schema d'uso didattico alla Società Chimica Europea nel 2019. Ad oggi è presente numerose classi in tutta Europa. Questa tavola serve a far capire che molti elementi attualmente disponibili, molto preziosi, non sono illimitati e sono a rischio nel futuro. Inoltre, questa tavola serve a sensibilizzare i giovani sul riciclo dei materiali impiegati nel settore tecnologico. Infatti, questa tavola non punta a criticare le tecnologie moderne, ma vuole far aprire gli occhi alle nuove generazioni sulle tematiche del riciclo. Le caselle della tavola presentano quattro colori, rosso, arancione, giallo e verde. Questi indicano la disponibilità futura degli elementi. Il rosso viene utilizzato per indicare gli elementi a grave rischio entro 100 anni, mentre il verde, per quelli con piena disponibilità in futuro. La dimensione, invece, indica la quantità attuale presente sul nostro pianeta. Inoltre, possiamo individuare elementi contrassegnati anche da un'icona di uno smartphone e dal colore nero o bianco. Il primo indica i materiali che compongono i dispositivi cellulari. Il secondo identifica elementi reperibili, in gran parte, in territori di conflitto e, l'ultimo, gli elementi di sintesi.